ciao da luci oggi come avrete visto dalla presentazione andiamo a realizzare il mio vestito virus non ho ancora deciso che nome dargli poi lo deciderò quando sarà il momento di creare la copertina di questo abito e per ora chiamiamolo vestito virus perché effettivamente è fatto col punto virus non avevo ancora visto maglie o vestiti fatte con questo punto avevo visto solo ponci piastrelle mantelline ma vestiti maglie non ne ho mai visti siccome voi mi avevate chiesto una maglia io ho deciso poi di continuarla e quindi farla lunga a vestito possiamo dire che potrebbe essere tranquillamente o un vestito o una maglia io ho deciso di farla con questo filato bellissimo con queste bellissime colorazioni con questa bellissima colorazione questa tinta sul rosa antico tenue tenue e questo bellissimo beige il filato si chiama pure cotton print di ice yarns e voi sapete che io acquisto da italia artisan vi lascerò i link in descrizione sia il link diretto del filato che il link dello shop questo filato ogni gomitolo è da 100 da 50 grammi per 170 metri ed è un 100 per cento cotone qui consiglia i ferri del 3 io per il mio progetto ho usato un uncinetto io non so se si vede numero 4 molto bello e ne ho usati in totale 350 grammi per una taglia 42 allora vorrei farvi vedere come prendere le misure non guardate il disegno perché disegno malissimo per la vostra canotta allora la larghezza della vostra canotta dovrà essere presa più o meno a questa altezza quindi qua voi prenderete la misura e deciderete quanti moduli fare per appunto la parte davanti e sarà uguale alla parte dietro la spallina dovrete prendere appunto questa misura quindi da qui a qui ovviamente facendogli fare il giro dall'altro lato calcolate che poi cresce in questo modo quindi va giù in diagonale va giù in diagonale ecco in questo modo e quindi arriverete a chiudere quando questa è la chiusura appunto dello sprone quando arriverete sotto l'ascella quindi in questo modo perdonate il mio disegno ma volevo farvi capire proprio come si prendeva la misura se la prendete più esterna rischiate che la spallina arrivi troppo larga se la prendete troppo interna rischiati dover fare veramente molti più giri di quelli che ho fatto io comunque rimanete indicativamente ad una misura molto diciamo scollata nel caso fosse al fine lavoro vi accorgeste che siete state troppo scollate potrete poi a fine lavoro alzare con una fila di maglie basse qua al centro però io ritengo che sia meglio rimanere un po più larghe di modo da ecco poi non dover fare tanti giri quindi non variare troppo la forma della spallina io spero veramente di essere stata chiara con questa spiegazione perché molte volte voi mi dite dove prendo io le misure per il mio vestito e questa è proprio dove dovete prendere la vostra misura le catenelle mie iniziali non sono relative perché io ho vedrete dalla spiegazione che poi ho iniziato il lavoro a catenelle aperte proprio perché così potete misurare su voi stessi a seconda del filato a seconda della taglia a seconda dell'uncinetto che usate a seconda di tutte queste variabili potete su di voi misurare quante catenelle fare quindi quanto sarà l'ampiezza del vostro sprone e da lì in avanti poi procedere come meglio sta a voi questo tipo di vestito quindi questo sprone che potrà essere che potrà diventare una canotta potete anche farlo diventare semplicemente una canotta e non un vestito quindi andate giù dritti diventa una canotta oppure se volete poi proseguire farlo diventare come il mio un vestito comunque le misure sono queste come vi dico sempre se non top down provatelo più volte su di voi per essere sicure di non dover poi disfare tante volte e quindi magari abbandonare il progetto perché vi sembra di aver sbagliato in realtà provandolo più volte vedrete che riuscirete a raggiungere esattamente la vestibilità che fa per voi vi lascio il progetto allora per fare questo vestito partiremo con una catenella aperta vi ho fatto già vedere in un precedente video cosa intendo con partenza con catenella aperta quindi non andremo a chiudere in cerchio la catenella ma la chiuderemo alla fine del primo giro così che voi possiate su voi stesse calcolare la misura esatta per il vostro avvio quindi partiremo direttamente con il punto virus perché appunto il vestito è fatto col punto virus e al termine di questo giro chiuderemo in cerchio la nostra catenella quindi fate una catenella molto lunga calcolando che dovrete avere ecco io vi dico quanti quanti moduli ho fatto io io ho tenuto sul davanti e sul dietro due ventagli quindi calcoliamo solo i ventagli e non gli archetti di separazione tra un ventaglio e l'altro quindi ho fatto due ventagli per il davanti ed il dietro del mio vestito e tre ventagli per le spalle ovviamente con poi anche i quattro angoli quindi partiamo in questo modo allora io parto così conto una due tre quattro cinque sei sette otto catenelle e dentro nella nona catenella con una maglia bassa aspettate perché la prima scivola ecco qua e abbiamo fatto il nostro primo metà angolo ora faccio 3 catenelle salto 2 catenelle di base e nella terza vado a fare una maglia bassa di nuovo 3 catenelle di nuovo salto 2 catenelle e sulla terza maglia bassa di nuovo 3 catenelle e di nuovo salto 2 catenelle e sulla terza maglia bassa quindi abbiamo fatto i nostri primi tre archetti da tre di separazione ora andiamo a fare una due tre quattro e cinque catenelle facciamo 1 2 e nella terza la nostra maglia bassa ripetiamo i tre archetti da tre quindi 1 2 3 salto 2 catenelle nella terza maglia bassa 1 2 3 salto 2 catenelle sulla terza maglia bassa di nuovo 1 2 3 salto 2 catenelle sulla terza maglia bassa quindi vado a fare un altro archetto da 5 che sarà il nostro secondo ventaglietto 1 2 3 4 e 5 saltando sempre 2 catenelle di base 1 e 2 sulla terza vado a fare la mia maglia bassa quindi vado a ripetere altri due archetti da 3 quindi fatti altri tre archetti da 3 noi abbiamo la metà angolo 3 archetti da 3 un archetto da 5 3 archetti da 3 un archetto da 5 3 archetti da 3 ora andiamo a fare il nostro secondo angolo perché ricordate questo è il mio primo metà angolo quindi andiamo a fare il nostro secondo 1 2 3 4 5 catenelle nell'angolo faremo una maglia alta quindi saltiamo sempre due catenelle di base sulla terza andiamo a fare la nostra maglia alta nell'angolo dobbiamo lavorare speculare quindi dobbiamo fare altre 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo due catenelle sottostanti nella terza ovviamente facciamo la maglia bassa perché la maglia alta la faremo solo nell'angolo quindi abbiamo fatto il nostro primo angolo ora procediamo sempre nello stesso modo quindi 3 catenelle andiamo a fare altri nostri tre archetti da 3 quindi ne faccio 1 1 2 3 salto 2 nella terza faccio il secondo 1 2 e 3 salto 2 e nella terza catenella faccio la terza quindi archetto da 5 salto sempre 2 e nella terza catenelle faccio la nostra maglia bassa ecco qua quindi procediamo nello stesso modo a fare ogni archetto da 5 sarà un futuro ventaglio quindi calcolerete per la vostra misura quanti ve ne servono per le spalle a me ne sono serviti 3 me ne sono serviti appunto ripeto due davanti due dietro e 3 sulle spalle quindi andate avanti a fare questo lavoro fino a quando non sarete arrivati alla misura provandolo addosso in cui direte ok posso fare il secondo angolo e lo rifacciamo insieme eccomi qui sono arrivato a fare il mio terzo angolo quindi faccio 2 3 4 5 catenelle carico salto 2 catenelle sottostanti e sulla terza vado a fare la maglia alta ricordate la maglia alta si fa soltanto sull'angolo quindi di nuovo 1 2 3 4 e 5 salto 2 catenelle di base e sulla terza vado a fare la mia maglia bassa e quindi ho fatto un secondo angolo ora nel campione ho fatto catenelle di un numero di come si dice di ventagli diversi giusto per è dimostrativo questo il lavoro è già fatto quindi vedete ora io appoggio sul tavolo il mio lavoro sapendo che ipoteticamente questo è il mio davanti questa è la mia spallina ovviamente se vado a lavorare questo lato dovrà essere uguale a questo quindi vado a fare un numero di moduli quindi di archetti da 3 e di archetti da 5 uguali all'altro lato quindi io su questo lato in questo caso ho fatto 1 2 e 3 moduli di archetti da 3 e ho predisposto per due ventagli quindi due archetti da 5 farò la stessa cosa su questo lato e anche voi a seconda di quanti ne avrete fatti qui e quanti ne avrete fatti qui dovrete lavorare le stesse maglie per poi arrivare a chiudere e noi ci vediamo proprio alla chiusura del giro arrivati alla chiusura del giro dobbiamo chiudere metà angolo ma noi ovviamente non abbiamo chiuso la catenella e quindi faremo in questo modo allora faccio 5 catenelle 2 3 4 e 5 e vado tenendo il lavoro ben dritto controllate bene che sia dritto mi raccomando ecco qua vado ad attaccarmi ecco qui alla terza catenella di inizio quindi ne conto 1 2 e 1 2 e 3 qui ora appoggiamo il nostro lavoro sembra strano il lavoro in questo modo ma vi assicuro che adesso vi sembrerà molto più semplice andiamo a disfare la nostra catenella vediamo se riesco a farlo senza tagliarla è di solito io la taglio ma volevo evitare volevo farvi vedere anche ovviamente una volta disfate tutte le disfate tutte fino alla maglia bassa ma noi servono due catenelle sotto quindi vi infilate proprio qui nell'ultima catenella che avete in questo modo allora probabilmente dalla camera non si vede bene mi infilo e vado a fare due catenelle che ci mancano in questo modo cosa faccio entro esattamente vedete aspettate che la tengo in sospeso perché qua mi si è belle faccio dopo entro esattamente alla base di questa e vado a chiudere nello stesso modo in cui avrei chiuso all'inizio quindi vedete entro in questa in questo modo prendo il mio filo entro faccio la catenella di sicurezza ed esco e vado a chiudere la mia il mio giro ora riprendo le catenelle eccole qua so che sembra una cosa complicata vi assicuro che è più facile così che sta a raccontare i multipli allora entro nella terza visto che mi era scappata fuori chiudo con una maglia bassissima e vedete io ho chiuso adesso l'andrò poi a nascondere come avrei fatto normalmente intanto la taglio per non avere filo in eccesso ecco qua io mi ritrovo con il mio lavoro chiuso vedete uguale sia di qua che di qua ho il mio lavoro chiuso adesso posso iniziare tranquillamente a lavorare senza più preoccuparmi della chiusura e facciamo in questo modo quindi io per fare il mio punto virus ecco entro nell'archetto che ho a fianco questo qua grande da 5 faccio 3 catenelle e vado a fare altre 9 maglie alte all'interno del mio archetto quindi totale di 10 con anche le 3 catenelle quindi faccio 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 maglie alte all'interno del mio mezzo angolo vedete qui c'è il primo archetto qui c'è il secondo io sono andata nel secondo perché devo fare il mio mezzo angolo che va verso questo lato ora vado a fissare l'angolo con una maglia bassa nel primo archetto da 3 in uscita dall'angolo in questo modo vado a fissarlo con una maglia bassa dopodiché faccio 3 catenelle vado nel prossimo archetto e mi fisso con una maglia bassa di nuovo 3 catenelle vado nel prossimo archetto e mi fisso con una maglia bassa in questo modo abbiamo fatto due archetti da 3 più il ventaglio ora andiamo nell'archetto da 5 che incontriamo questo e andiamo con una maglia alta all'interno dell'archetto e di maglie alte ne faremo altre 9 più questa quindi 10 in ogni archetto da 5 voi dovrete fare sempre 10 maglie alte in questo modo quindi è il classico punto virus niente di che io ve lo sto solo ripetendo per chi non lo sapesse fare ma vi assicuro che è semplice punto virus quindi ne ho fatte 2 4 6 8 9 e 10 rifermo il mio ventaglietto nel prossimo archetto da 3 con una maglia bassa in questo modo vedete ci ritroviamo con 10 due archetti da 3 di nuovo un ventaglio da 10 e ora andiamo a fare altri due archetti da 3 quindi 3 catenelle nel prossimo archetto punto e faccio una maglia bassa ho di nuovo il prossimo archetto che è da 5 quindi in quello vado a fare 10 maglie alte in tutto GRE ecco 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 and wai in questo modo quindi facciamo questo fino al prossimo angolo quindi di nuovo nel prossimo archetto da 3 fissiamo il ventaglio con una maglia bassa 3 catenelle prossimo archetto da 3 una maglia bassa 3 catenelle prossimo archetto da 3 una maglia bassa e siamo arrivati all'altro angolo ora facciamo in questo modo carichiamo, entriamo nella metà angolo e andiamo a fare 10 maglie alte 3 4 5 6 7 8 9 ecco qua e 10 e ho fatto metà angolo ed ora non faccio altro che caricare e andare nell'altra metà angolo a fare altre 10 maglie alte quindi 1 quindi 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 9 e 10 fatto il mio angolo non mi resta che procedere come fatto finora quindi fisso fisso nel prossimo archetto da 3 il mio ventaglietto con una maglia bassa 3 catenelle nel prossimo archetto da 3 fisso con una maglia bassa 3 catenelle nel prossimo archetto maglia bassa e così via quindi di nuovo al prossimo angolo 10 maglie alte in una metà di angolo 10 maglie alte nell'altra e proseguo così per tutto il giro e noi ci vediamo in fondo arrivati in fondo al nostro giro vedete ho fatto la maglia bassa nell'ultimo archetto da 3 prima dell'archetto da 5 che compone l'angolo e vado a fare le mie 10 maglie alte all'interno dell'ultimo archetto da 5 appunto che compone l'angolo in questo modo allora contiamole sono 2, 4, 6, 8, 9 ecco qua e 10 e chiudiamo con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio quindi quella che abbiamo usato come prima maglia alta ecco qua voilà non l'ho chiusa nella catenella ma l'ho chiusa dentro aspettate un attimo mi raccomando chiudetela nella catenella altrimenti non viene un lavoro fatto bene in questo modo ecco qua il lavoro a questo punto si presenterà così ovviamente tenete conto che questo è un campione quindi è più piccolo dell'originale e gli archetti non tornano come numero però vedete vi ritroverete con questo adesso un po' molliccio ecco qua e sembra anche storto ma vi assicuro che è dritto perché ho contato le maglie ecco qua ve lo tengo fermo ve lo tengo fermo così e ci siamo ecco qua tira un po' questa però ecco qua ora sembra storta ma non lo è tranquilli andiamo a fare il terzo giro il terzo giro si fa così allora ci alziamo con 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta ed andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante quindi andiamo a fare 10 maglie alte sulle 10 maglie alte in questo modo ecco qui mi raccomando contatele sempre perché nel punto virus se saltate anche solo una maglia viene fuori un po' un macello e nel prossimo archetto che incontriamo fermiamo il ventaglietto con una maglia bassa quindi 3 catenelle e nel prossimo archetto da 3 maglia bassa quindi ci ritroveremo con un solo archetto da 3 in mezzo ai ventagli carichiamo ed ora andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta del prossimo ventaglietto quindi una quindi procederemo così avremo una maglia alta su ogni maglia alta sui ventagli quindi un solo archetto da 3 in mezzo e anche nell'angolo andremo a ripetere le stesse maglie quindi ora sto facendo le maglie alte sull'ultima metà di angolo in questo modo e vado quindi fatta l'ultima vediamo se è veramente l'ultima sì vado a chiudere nella terza catenella inizio giro quindi qua con una maglia bassissima in questo modo ora ci ritroviamo con questo vedete si stanno ingrandendo i nostri ventaglietti abbiamo i nostri degli angoli vedete adesso rimane un po' più dritto perché inizia ad essere un po' più ecco il lavoro un po' più stabile quindi vedete che non abbiamo più due archetti tra i ventaglietti ma ne abbiamo uno solo siamo andati a ingrandire il ventaglio e a restringere la parte centrale tra appunto i ventagli quindi procediamo in questo modo ora faremo su ogni maglia alta una maglia alta ma separata da una catenella quindi ho fatto tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una catenella di separazione carichiamo andiamo sulla prossima maglia alta facciamo una maglia alta con una catenella di separazione di nuovo prossima maglia alta maglia alta più una catenella la prossima maglia alta più una catenella la prossima maglia alta catenella maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi faremo 10 maglie alte ed avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spazi creati da una catenella. Quindi andiamo a fissare il nostro ventaglio all'interno dell'ultimo archetto da 3 rimasto, in questo modo, con una maglia bassa, scusate, non bassissima, bassa. Dopodiché carichiamo, siccome non abbiamo altri archetti a cui attaccarci, e andiamo direttamente al prossimo ventaglio. Quindi maglia alta sulla prima maglia alta più una catenella, maglia alta sulla prossima maglia alta, una catenella, maglia alta nella maglia alta successiva più una catenella. Di nuovo, maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, una catenella. In questo modo, andiamo a fare tutto il nostro ventaglietto. Ecco qui, andiamo sull'ultima e facciamo la maglia alta, ovviamente senza nessuna catenella. Andiamo a fare una maglia bassa sull'archetto da 3 che troviamo nel mezzo e procediamo in questo modo, vedete, andiamo a togliere, ecco, completamente gli archetti tra i nostri ventaglietti. Procediamo così fino alla fine del giro. Ovviamente sul prossimo angolo, qui, andremo a fare 10 maglie alte sulle 10 metà angolo, tutte divise, quindi 20 maglie alte, tutte divise da una catenella. Quindi avremo 20 maglie alte e 19 spazi creati da una catenella. Proseguiremo poi così fino alla fine del giro. Quindi arrivati alla chiusura dell'angolo, ovviamente dopo l'ultima maglia alta facciamo la catenella e dopo andiamo a chiudere nella terza catenella d'inizio con una maglia bassissima, quindi non dimenticatevi ovviamente quella catenella. Il lavoro si presenterà in questo modo, fine del giro, non aspettate perché ogni volta che lo prendo in mano si arrotola, ecco qua. Quindi vedete, abbiamo tolto totalmente gli spazi tra i nostri ventagli e abbiamo, ecco, vedete, gli spazi sono diventati un triangolino all'interno dei nostri ventagli. Cosa andiamo a fare ora? Andiamo a ricreare i nostri archetti iniziali perché i ventagli sono finiti. Quindi cosa facciamo? Allora sapete che su ogni angolo si inizia con la maglia alta, quindi vado a fare 3 catenelle più 5 catenelle. Proprio come l'inizio, ora salteremo sempre un foro e lavoreremo la maglia bassa in quello successivo, quindi qui andiamo a fermare il nostro primo angolo, vedete, in questo modo. Ora, 3 catenelle e cominciamo a fare esattamente quello che abbiamo fatto all'inizio del lavoro. Quindi saltiamo un archetto e entriamo in quello successivo con la maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo un archetto in quello successivo con la maglia bassa. Quindi ci ritroviamo archetto da 5 e di nuovo i 3 archetti da 3. Ora abbiamo questo archetto libero, che è l'ultimo del ventaglietto, poi abbiamo l'archetto dell'altro ventaglietto, li lasciamo liberi tutti e due. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, quindi ne saltiamo 1 in questo ventaglio e 1 nel prossimo ventaglio. Entriamo nell'archetto successivo con la maglia bassa, vedete, abbiamo posizionato l'archetto da 5 proprio in mezzo ai due ventagli. Di nuovo, 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un archetto in quello successivo maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un archetto in quello successivo maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un archetto in quello successivo maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo un archetto in questo ventaglio e il primo archetto nel ventaglio successivo. E quindi entriamo nel secondo, quindi qui dove c'è l'archetto da 5 ne salteremo 2, 1 e 2 di archettini da una catenella. Quindi di nuovo, 1, 2, 3, saltiamo un archetto in quello successivo maglia bassa. 1, 2, 3, saltiamo un archetto in quello successivo maglia bassa. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo un archetto di qui, un archetto di qua e entriamo nel secondo con la maglia bassa. In questo modo. Siamo arrivati all'angolo. 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un archetto nel successivo maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo un archetto nel successivo maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo un archetto nel successivo maglia bassa. Ora ne dobbiamo fare 5 perché siamo nell'angolo. Quindi, 1, 2, 3, 4 e 5. Carichiamo. Quindi arrivati all'ultimo. Vedete, ho fatto l'ultimo archetto da 3. Di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5. E vado a collegarmi sulla terza, quindi mi aggancio sulla terza catenella d'inizio con la solita maglia bassissima. Quindi, a questo punto, il nostro lavoro sarà così. Abbiamo predisposto il lavoro per il prossimo giro. Nel mio caso, i prossimi due giri saranno gli ultimi perché poi io ho chiuso. Per lo scalfo manica. Adesso lo vediamo insieme. Per voi, se prendete la misura come l'ho presa io, quindi questa e questa che sono il davanti e il dietro. Vedete, ve lo metto così. Ecco qua. Non guardate, non è uguale al vestito perché questo è un campione. Quindi, io ho tenuto semplicemente tutto più piccolo. E qua in mezzo, io nell'originale, ho due ventagli prima dell'angolo. E qua, ovviamente, tra angolo e angolo ce ne sono tre. Quindi, questo è solo un campione. Però, questo, ecco, è la mia spalla. E rimane molto scollato. Quindi, la spallina rimane molto sottile. Io ho deciso di farlo molto scollato perché volevo la spallina appunto sottile. Al massimo, avrei fatto, diciamo, dei giri qui in mezzo poi per alzare. Non è stato necessario perché la scollatura è giusta. Nel senso, arriva proprio molto scollato ma non scopre il seno. Quindi, rimane proprio giusto per la mia misura. Dopo, se non l'ho ancora fatto, perché la registrazione la sto facendo in due giorni differenti e non mi ricordo se l'ho già fatto, vi prendo in centimetri la misura, ma credo di averlo già fatto. In ogni caso, voi dovete misurarlo proprio in questo modo. Dovete metterlo, ovviamente, lo passate la testa qui in mezzo e questo deve rimanere molto scollato sia davanti che dietro e le spalline. Perché più lo tenete scollato, più potete tenere sottili le spalline. Ecco, diciamo così. Infatti, io a questi giri ne ho fatti solo due ancora e li facciamo insieme perché così vi porto alla chiusura poi dello scalfo manica. E da lì poi possiamo procedere tranquillamente ognuno da solo perché dopo si procede in circolare sempre nello stesso modo. Però adesso arriviamoci a gradi. Partiamo col fare, ecco, già partimo male, partiamo col, sì facciamole qua, fare tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e ovviamente ne andiamo a fare altre nove proprio nel nostro archetto. Quindi due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Perché ovviamente una ce l'avevo già, vediamo, due, quattro, sei, otto, no, l'avevo contata quindi questa è la dieci, perfetto. Quindi andiamo a fare la nostra maglia bassa nel nostro primo archetto da tre, tre catenelle, maglia bassa nel nostro secondo archetto da tre, tre catenelle, maglia bassa nel nostro terzo archetto da tre. Carichiamo e andiamo a fare dieci maglie alte nell'archetto da cinque. Quindi due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Maglia bassa nel prossimo archetto da tre, tre catenelle, maglia bassa nel secondo archetto da tre, tre catenelle, maglia bassa nel successivo archetto da tre. E andremo a fare di nuovo come fatto finora, vedete? Stiamo creando dei ventaglietti alternati, quindi in mezzo ai ventaglietti precedenti. Procediamo così fino alla fine del giro. Quindi chiuso anche questo giro, vedete? Sta crescendo, qui dove prima avevamo solo i due angoli, adesso abbiamo anche un ventaglio in mezzo. Nella prossima sequenza ne avremo uno in più, vedete qua dove ne avevamo solo due, adesso saranno tre, poi diventeranno quattro, cinque e così via. Ovviamente noi adesso procederemo con quello che sarà il nostro, che era all'inizio il nostro terzo giro. Quindi andiamo a rifare le maglie alte sulle maglie alte e a far diventare i due archetti da tre, un archetto solo, perché faremo le dieci maglie alte, chiuse sul primo archetto con una maglia bassa, tre catenelle e chiudiamo con una maglia bassa sul secondo archetto. Di nuovo dieci maglie alte e così via, quindi andiamo a ripetere né più né meno quello che è stato il terzo giro. Ci vediamo al termine di questo giro perché vi farò vedere come si chiude per lo scalfo manica. Ecco qui, siamo arrivati quindi alla chiusura per lo scalfo manica. Ricordate sempre, prima di chiudere, ovviamente di misurarvelo. Arrivati a questo punto, quindi ho staccato il filo, vedete sono arrivata alla conclusione delle mie spalle. Ho staccato il filo perché ora dobbiamo procedere in modo diverso. Quindi, leghiamo il nostro lavoro in questo modo e andremo ad infilare l'uncinetto, quindi andiamo a riattaccare il nostro filo, faccio il mio cappietto, eccolo qui, sulla prima maglia delle dieci da questo lato dell'angolo. Quindi, contiamo, io le conto da qua che mi viene più comodo, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Quindi proprio su questa vado ad attaccare di nuovo il mio filo. Ho una maglia bassissima, vedete, quindi praticamente io mi riattacco su metà angolo. Questa sarà la metà angolo che rimarrà per la chiusura dello scalfo, questa sarà la metà angolo che poi sarà sul mio o davanti o dietro del lavoro. Quindi, vado ad effettuare le mie tre catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta. Allora, sette, due e tre. La prima catenella di separazione perché stiamo al quarto giro che è quello composto da maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi le maglie alte lavorate sulle maglie alte sottostanti separate da una catenella. Quindi, in questo modo, vado a lavorare tutte le mie maglie alte. Ecco qua. Avremo le nostre dieci maglie alte separate dalle nove catenelle. In questo modo. Andiamo. Sì. Maglia bassa nell'archetto, nell'unico archetto che ci ritroviamo. In questo giro sapete che ne abbiamo uno solo. E riniziamo il prossimo ventaglietto. Quindi, maglia alta, catenella. Maglia alta, catenella. In questo modo. Fino ad arrivare al prossimo angolo. E lì noi ci rivediamo. Siamo arrivati quindi al nostro angolo. E procediamo in questo modo. Quindi ho fatto la maglia bassa al centro tra i due ventaglietti. Vado a fare le mie dieci maglie alte separate dalla catenella. Quindi una. Due, catenella. Tre, catenella. Quattro, catenella. Cinque. Sei, catenella. Sette. Nove. Dieci. Ovviamente dopo la decima facciamo la catenella. Prendiamo il nostro lavoro. Quindi vedete la parte più lunga, quindi la nostra spallina. La pieghiamo a metà, facciamo combaciare l'angolo e ovviamente non lavoriamo la stessa parte di angolo. Quindi questa parte di angolo che rimane già sul lato lungo. Quindi le due metà angolo che rimangono sul lato lungo non le lavoriamo. Andiamo e ci attacchiamo direttamente sulla metà che rimane sul lato corto. E facciamo la stessa cosa. Quindi due, quattro, sei, otto, dieci. Individuata la maglia, carichiamo il filo ed entriamo esattamente su questa maglia. Quindi ricominciamo. Maglia alta, catenella, maglia alta. In questo modo. Adesso vi faccio vedere, perché voglio farvi vedere proprio l'angolo chiuso, cioè lo scalfo chiuso. Quindi lo lavoriamo insieme tutto. Per quello vi dicevo, rimanete piuttosto precisi sulla altezza che vi rimane sotto l'ascella, perché se lo tenete troppo in basso rischiate che vi rimane troppo largo lo scalfo manica e quindi poi vi ritrovate con il vestito troppo basso, scollato, diciamo, sbracciato più che altro. Ecco qua, vedete, abbiamo chiuso in questo modo. Aspetta, se lo metto dritto. Ecco così. In questo modo. Ecco qua. Questo sarà il davanti o il dietro. Questo sarà appunto il nostro sempre dietro o davanti. E questa è la chiusura per la nostra manica. Ora non facciamo altro che procedere nello stesso modo, quindi lungo tutto questo lato, lavoreremo questa metà di angolo, faremo combaciare appunto il davanti con il dietro e lavoreremo ovviamente solo le parti che ci interessano. Siccome qua abbiamo già iniziato da quest'angolo, lavoreremo queste 10, faremo la catenella e uniremo con una maglia bassissima proprio su quest'angolo. Però, per certezza, ve lo faccio vedere. Come detto poc'anzi, sono arrivata alla mia metà angolo lavorata, faccio la mia catenella sull'ultima, dopo l'ultima maglia alta, quindi la decima, piego a metà il mio lavoro e quindi mi ritrovo sull'angolo quello già mezzo lavorato. Vado nient'altro, non faccio nient'altro appunto che chiudere sulla terza catenella d'inizio. Contate bene la terza perché ovviamente vi deve rimanere una catenella che forma la separazione tra le maglie alte. Quindi vado a inserirmi con la mia maglia bassissima e io in questo momento, volevo tenerlo stretto per farvi vedere, ho chiuso, ecco qua, il mio scalfo manica, in questo modo. Ora non devo fare altro che procedere sempre in tondo. Vedete? Rimane leggermente, ecco, più larghino, giustamente, perché sennò rimane un po' troppo stretto. Ricordate sempre di prendere le misure. Arrivato all'ultimo ventaglietto, ovviamente abbiamo lavorato nove maglie alte ed andiamo a collegarci alla prima che avevamo fatto all'inizio giro. Quindi calcoliamo, contiamo una, due sulla terza catenella d'inizio. Rimane un po' duretta da prendere perché è sdraiata sul nostro archetto sottostante. Eccola qua. Chiudiamo con una maglia bassissima, in questo modo. Vedete? Abbiamo la decima maglia alta. Allora, adesso forse l'ho presa male perché... Ho tirato il filo, scusate, sono un po' pignola perché per il cotone rimane anche un po' diverso da lavorare dalla lana. Rimane, insomma, si sfila un pochino e quindi preferisco fare i lavori come si deve, piuttosto che infilare così, a caso, il lavoro. Ecco qua, adesso l'ho presa bene. Chiudiamo. Vedete? Abbiamo la nostra decima maglia. Proseguiamo esattamente nello stesso modo. Quindi facciamo la nostra maglia alta, che andremo a chiudere nell'archetto successivo. Tre catenelle e di nuovo archetto successivo. E così via. Il lavoro sarà sempre lo stesso da qua in poi. Vedete? Abbiamo semplicemente creato... Ecco qua. Vedete? Questa è la nostra canotta, che diventerà un vestito, che se a voi piace potete lasciarlo tranquillamente a canotta. Vedete? Guardate che bello. Il punto virus rende tantissimo. Abbiamo creato, vedete, un ventaglietto sotto lo scalfo manica. Poi diventerà grande. È bello. E vedete? Abbiamo la nostra bratellina, bellissima, tutta fatta a punto virus. Così, un po' svolazzante, un po' frufru, molto carina e graziosa. Volevo spiegarvi, giusto in breve, come fare se avrete bisogno di fare degli aumenti. Se vorrete fare degli aumenti, allora in primis vi consiglierei di cambiare l'uncinetto, quindi di passare a un mezzo o un numero più grande. Dopodiché, se vorrete andare avanti con degli aumenti, non farete altro che aumentare le catenelle sugli archetti. Quindi, gli archetti da 3 diventeranno archetti da 4, gli archetti da 5 diventeranno archetti da 6. Semplicemente ci vuole un accorgimento. Quando farete il ventaglietto, per passare al ventaglietto, farete dopo la maglia bassa una catenella. Quindi, dopo il ventaglietto, una catenella e di nuovo maglia bassa. Giusto per non far tirare il punto. Però, questi sono dei piccoli accorgimenti. Per il vestito, come l'ho fatto io in sé, gli aumenti io li ho fatti, ma a fine vestito mi sono accorta che, essendo comunque di cotone, si tirava e non mi sono serviti più di tanto questi aumenti. Quindi, secondo me, vi basta semplicemente il cambio di uncinetto. Da questo punto in poi, ripeto, il lavoro è sempre lo stesso. Quindi, il punto virus lavorato in tondo, quindi in circolare, non c'è né più né meno da fare. Vi consiglio, dopo aver finito il vostro vestito, come rifinitura, io ho fatto due giri di maglia bassa. Quindi, in realtà, io ho fatto un giro di maglia alta e un giro di maglia bassa. Secondo me, anche due giri di maglia bassa fatti attorno al nostro collo, andrebbero benissimo. Ora, io direi che mi fermo qua, perché la spiegazione è assolutamente finita. A voi interessa proprio questo pezzo, perché, ripeto, si va avanti in circolare. Io andrò avanti adesso un pezzettino da sola, giusto per farvi vedere l'effetto a canottiera. Andrò avanti da sola, anche perché questa è venuta così carina che io la terrò per una delle mie bimbe, perché è veramente molto graziosa. Quindi, vado avanti un pezzettino e ci vediamo al termine, quindi per i saluti, dopo che avrò lavorato un pezzettino ancora. Ecco qui, cosa avremo? Ecco, al termine della nostra lavorazione, ovviamente proseguiremo per tutta la lunghezza della canotta o vestito. Perché è veramente molto bella, anche solo come canottiera. Guardate come rende il punto virus, rende tantissimo. A me piace molto. Gli anni scorsi avevo visto veramente tantissimi capi fatti col punto virus, ma erano per lo più ponci, mantelline, cose invernali, cose un po' pesantine e soprattutto in molti si chiedevano come poter realizzare delle maglie, delle magliette, delle canottiere. Ne avevo fatte anch'io diverse, ma a piastrella, e volevo proprio una lavorazione un po' più leggera, un po' più estiva. E devo dire che rende veramente tantissimo il punto virus lavorato in questo modo. Vi ripeto poi di fare appunto dei giri di rifinitura a maglia bassa, ecco qui, per definire un po' più il bordino, perché così rimane un po' diciamo sguarnito. Quindi se vi serve fare degli aumenti, appunto, il cambio d'uncinetto o la catenella in più, quindi non aumentate maglie sui ventagli, ma soltanto sulle catenelle quando fate gli archetti. E già quello è sufficiente. Semplicemente direi che penso di avervi detto tutto, penso, spero, di essere stata brava a spiegarvi insomma questo progetto che a me piace moltissimo, perché ho sempre avuto una passione per il punto virus, mi è sempre piaciuto veramente tanto. Io vi invito a venirmi a trovare nel mio gruppo Facebook Creando con Luce Franci, vi invito a dare un'occhiata allo shop Italia Artisan per i filati, vi lascerò ovviamente tutti i link in descrizione. Se volete farmi vedere i vostri lavori, non esitate appunto ad iscrivervi al gruppo e a farmeli vedere. Se volete, se avete domande, mi trovate o qui sotto, nei commenti potete farmi le vostre domande, oppure sul gruppo, oppure tramite Messenger. Insomma, sono a vostra disposizione. Io vi mando un grosso bacio, come sempre. Ciao ciao da Luci, al prossimo tutorial. Ciao!